Grazie, grazie al Presidente Daniele Sebastiani in diretta dall'esterno dello Stadio Adriatico per commentare questa vittoria. Presidente Sebastiani, al 93esimo il Pescara era con quasi due piedi ai play-out, al 94esimo Pescara che torna padrone del proprio destino. In caso di vittoria al Bentegodi arriverà la salvezza. È già tanto, Presidente. In un minuto potrebbe essere cambiata la storia del campionato. Ma questo è il bello di questo campionato. Noi siamo stati per tanto tempo fuori dalla mischia, ci siamo entrati nelle ultime due partite e magari oggi, negli ultimi minuti, possiamo veramente tornare ad essere giudici del nostro destino. Però bisogna andare a Verona e fare una partita importante per fare questa, altrimenti saremo comunque con i problemi. Fuori di dubbio che venerdì prossimo contro la formazione Clivenze occorrerà un altro Pescara rispetto a quello visto questa sera con il Livorno? Sì, però questa partita con il Livorno fa poco testo perché noi credo che abbiamo preso questa partita, io l'ho detto all'inizio, prima di cominciare, ho detto a tutti i ragazzi, grande concentrazione perché intanto non ci regala niente nessuno e poi soprattutto non guardiamo che questi magari sono con tanti ragazzi perché quella è la cosa più difficile perché questi ragazzi vogliono mettersi in mostra, vogliono giocare, vogliono far vedere il loro valore. Noi invece magari siamo lì che aspettiamo il momento per fare gol e in questo campionato non si può aspettare nessuno, in questo campionato bisogna essere dei killer veramente perché se non si ha il coltello tra i denti si rischia di perdere con chiunque. Oggi credo che i risultati l'abbiano dimostrato. Presidente, sono mezzanotte e tre minuti, lei è stato quasi un'ora a colloquio con la squadra, con il tecnico Sottil e con i due direttori. Non le chiedo cosa ha detto i giocatori, ma insomma era un po' arrabbiato per la prestazione o avete parlato semplicemente della gara con il Chievo di venerdì? No, non sono stato un'ora a parlare con loro, abbiamo parlato il giusto ma ho detto che è troppo importante per questa città, per i tifosi, per noi in primis, per la dignità di ognuno di noi perché una squadra come questa che deve lottare per non retrocedere all'ultima giornata di campionato secondo me è veramente un grande peccato perché se è vero come è vero che i miei giocatori ritengono di essere giocatori forti adesso bisogna tirare fuori le palle e dimostrarlo. Questa sera il Cittadella ha onorato il campionato, la stessa cosa sta facendo il Trapani vincendo queste partite, anche quella di questa sera proprio al 94esimo a Perugia. L'augurio è che venga onorato il campionato fino all'ultima giornata e anche nelle gare del prossimo turno? Voi sapete meglio di me che è sempre difficile fare questi discorsi perché poi ci sono squadre che hanno ottenuto dei risultati importanti ma anche lo stesso Crotone credo che oggi abbia onorato il campionato alla grande perché non aveva sicuramente bisogno di una vittoria e invece ha giocato la partita e ha ottenuto la vittoria. A mio avviso questo è un segnale importante per il campionato, è un segnale che dà anche immagine al nostro campionato perché vedere poi dei risultati che vengono fuori così... Si aspettava la vittoria del Trapani a Perugia e il successo del Cittadella? Ci sperava? No, no, ma io credo che il successo del Cittadella l'avevo proprio scritto perché per me il Cittadella o era proprio in crisi totale oppure doveva vincere. La bestia nera del Pescara tra l'altro. La bestia nera nostra e per quanto riguarda il Trapani io l'ho detto prima della partita a un mio amico che era con me e oggi il Trapani fa risultato anche a Perugia perché il Trapani ci mette quello che dicevo prima. Io credo che senza nulla togliere i giocatori del Trapani ma credo che se uno avesse visto la lista del Perugia e la lista del Trapani il risultato sulla carta doveva essere scontato. Invece nella realtà in Serie B non è scontato nulla se entri in campo e dai sempre il massimo di quello che puoi dare. Per chiudere, Presidente, a Verona bisognerà vincere per centrare la salvezza. Non ci sarà Balzano per l'infortunio che ha riportato questa sera. Indubbio la presenza di Pucciarelli. Torneranno Galano e Masciangelo in attacco però ci saranno uomini contati. Non ci sarà Bocic che dopo l'ammunizione di questa sera verrà squalificato? Sì, sì, però insomma c'è Borrelli che a Trapani è entrato anche molto bene, c'è Pavone, abbiamo anche l'argentino Belloni che credo che non abbia nulla che non gli possa consentire di giocare. Andiamo lì a giocarci, 11 sono loro, 11 siamo noi. Quindi mettiamoci quel qualcosa in più che serve e poi alla fine tireremo le somme. Se non sarà possibile, se non faremo risultato, vuol dire che avremmo meritato di giocarci la coda degli spareggi. Se invece riusciremo a fare risultato, vuol dire che questi ragazzi avranno tirato fuori qualcosa in più. L'ultimissima si tornerà a Verona, ci sarà Aglietti, un'altra squadra veronese sulla strada del Pescara nell'ultima giornata. Lo scorso anno il Verona andò in finale a scapito dei Biancazzurri e quest'anno ci sarà l'altra formazione di Verona in un'altra gara fondamentale per il futuro del calcio pescaresa. Eh sì, purtroppo Verona per noi è sempre nel nostro destino. Se vi ricordate è stato nel primo playoff che ci ha riportato in Serie B. Gran gol di Ganci. Gran gol di Ganci, sono state tante belle partite in Serie B. Adesso ci tocca il Chievo, ci ritocca incontrare lo stesso mister. Speriamo che magari la fortuna questa volta sia dalla nostra parte.